L'annuale cena di Natale di Fondazione Comunitaria e VCO porta una gran bella notizia al territorio locale dopo la sfida vinta con i Vigili del Fuoco. Sì, perché porta la notizia che abbiamo iniziato bene anche una nuova sfida, quella a favore del Corpo dei Volontari dell'Antincendio Boschivo, l'AIB, perché volevamo raggiungere il primo traguardo, l'acquisto di nove moduli vasche da 6.000 litri a servizio degli elicotteri e dei mezzi a terra e l'abbiamo raggiunto. E poi pensavamo di fermarci qui, invece abbiamo già quasi raggiunto anche il secondo obiettivo che è quello dell'acquisto di un ponte radiomobile che è molto importante per le operazioni a terra e devo dire che anche quello l'abbiamo raggiunto. Allora se diciamo che se tanto mi dà tanto penso che entro l'anno prossimo raggiungeremo tutto l'obiettivo dei 110.000 euro e questo grazie alla generosità della nostra provincia e della nostra comunità. Ma quali altre attrezzature servono i nostri AIB? Un generatore a 40 kg vado a mettere a disposizione del VCO per chi l'avrebbe bisogno e il terzo delle macchine operatrici per operare nelle luvioni, nella neve. Quante saranno le squadre beneficiari? Allora siamo 32 squadre, suddivise in 9 distaccamenti e area di base della provincia e circa 600 volontari presenti sul territorio. Perché è importante avere anche un rinnovo della vostra dotazione? Eh sì perché soprattutto tipo le vasche o le pompe non tutte le nostre squadre le hanno a disposizione e allora è meglio averle pronte all'uso. Grande successo di pubblico intanto per la cena benefica di ieri all'hotel Regina Palace di Stresa ha esauriti tutti i posti disponibili, 237 partecipanti, molti erano in lista d'attesa, una trentina di persone hanno pagato la quota pur non potendo partecipare al galà. Lo ritengo un grande segno di fiducia nei confronti della fondazione che ci dà una grande responsabilità. Dobbiamo essere sempre più all'altezza di questa straordinaria provincia. Un'altra anticipazione dopo gli AIB, una nuova sfida sarà a sostegno del nostro soccorso alpino. Intanto ieri a Stresa è il simbolo della grande impresa di soccorso sicuro. Nove nuovi mezzi per i vigili del fuoco volontari del VCO per un totale di 1.800.000 euro. Sembrava un sogno e invece è diventato realtà. Consegnato il primo mezzo, quello della Valle Vigezzo. L'esperienza è stata abbastanza impegnativa, dobbiamo dire grazie alla fondazione comunitaria del VCO che ci ha sostenuto dal primo giorno e tutte le associazioni, enti e privati cittadini che ci hanno sostenuto donando il fondo soccorso sicuro e che ci ha portato in giro di tre anni a portare a casa un risultato del genere. Quando arriveranno gli altri mezzi? Allora, siamo in accordo con la ditta costruttrice, attualmente stiamo aspettando le ultime delibere dei comuni, quelli che mancano e salvo imprevisti entro fine dell'anno prossimo arriveranno i nuovi, gli altri otto, otto mezzi per gli atti di staccamenti volontari.